Non è così. Una volta usciti da queste mura dovremo confrontarci con la politica, le amministrazioni, le imprese. Se non saremo in grado di affrontarle potremmo essere indiottiti come in un enorme buco nero. Noi siamo pronti a mettere in gioco le nostre idee, le nostre competenze, la nostra passione, ma vogliamo un segnale dei mondi rappresentati oggi dall'onorevole Martina e dai suoi colleghi un segnale forte che ci permetta di capire che non è vano il tempo investito a studiare. Vorremmo non dover guardare al futuro con incertezza. Lorenzo De Medici recitava, chi vuole essere lieto sia, di domani non v'è certezza. Noi vogliamo la certezza, quella di poter terminare il percorso universitario e di metterci in un mondo lavorativo giovane, efficiente e soprattutto meritocratico. Pertanto ho colto l'occasione di ascoltare oggi la lezione dell'illustrissimo ospite onorevole Martina che opportunamente si è ritrovato a rappresentare il suo ministero in una terra che è evocata l'agricoltura. Il settore primario, come ben sappiamo, è il traino della nostra economia, nonché la punta di diamante della Puglia. I nostri prodotti, come quelli di tutta Italia, sono invidiati da tutto il mondo. Termino il mio intervento con una citazione di Peter Schultz, noto chimico americano. Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile, avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro le risposte furono diverse. Spacco pietre, disse il primo. Mi guadagno da vivere, rispose il secondo. Partecipo ad una costruzione di una cattedrale, disse il terzo. Docenti, studenti, dipendenti, neodirettrice generale. Il mio augurio quest'oggi è che tutti quanti noi possiamo avere, ognuno nel proprio piccolo, la certezza di essere i protagonisti della costruzione della cattedrale del sapere, l'università. Grazie e buon anno accademico a tutti. Nel ringraziare tutti i presenti per la gentile partecipazione si dichiara conclusa la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 dell'Università di Foggia, 17esimo dalla sua istituzione. Grazie.